Deve essere stata una costosa distillazione la marea del mare, il cielo è più professionale. Premedita se stesso, il tempo, questo tempo è inaffidabile, vengono giù gelati poi i rane, un giorno baci celebri, un altro giorno, eliche in funzione. E come informazione si sente spesso chiedere dov'è che si sistemano le cabotte a fiammiferi. Queste le uscite spizze celeri così come lei le intuisce, che veloci inceneriscono se stesse. Avanti un'altra, così si va, a spasso si va. Ecco i negozi non le sembra più di stare a casa, ecco camminare nell'uno e nell'altro senso, non avendo al fianco chi l'accompagnerebbe nelle minime e le massime escursioni. Ecco i negozi che ingoiano tutti i fracassi, non applicano un stomaco nel cuore, eccola. Qui dov'è la padrona del proprio giro vita, del proprio giro follo, del proprio giro pericolo del corpo. E lo spazio non è quella questione, ecco i negozi si può tacere senza dare il silenzio come spiegazione. Ecco qui, tra le creature scisse, tra chi entra e chi esce, c'è uno scambio di temperature. Si diventa termometri contraddittori, si passa tra le cose spuse e pade, come tra le città alghe, di fante maghe e cirche annegatici, dimenticando poi, dimenticando, così sei fortunata, hai trovato esattamente quello che cercavi. tre bravi, tre bravi di Cayenna, ovvero un forchettino per i ravanelli. Così sei fortunata, hai trovato il posto più esclusivo della storia. Le pagine in cui Antonio, con Cleopatra, si strapassano ancora, come ovarie, dalle braccia ormai implicite nell'altro. Sopravvissuti ad ogni nave che si navvissò. immersi in un tributio misto seta, in una negligenza e obbligo di sciarpe, ed è come non mai non stare a casa. un gir produzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti